Se questo video arriva a 3000 like entro le 24 di stasera vi porto anche una review sulle maglie delle altre big di serie A, quindi forza con i big like! Questa sera si giocherà la finale di Champions League, ovviamente voi questo video lo vedrete un po' dopo rispetto a quando l'ho girato, ma questa è ufficialmente l'ultima partita in cui verrà usata questa maglia. Già dalla prossima partita ufficiale, che sarà la prima partita del campionato, la Juventus ti deserrà una nuova maglia che è stata rivelata, è stata liccata, ma che ancora non è stata ufficialmente presentata. Ho fatto anche la rima, quindi siamo a posto. In realtà mi considero abbastanza spiegato perché avevo già praticamente montato e renderizzato tutto il video con le nuove maglie della Juventus, non ancora annunciate, con tutti i concept praticamente quasi ufficiali, ma adesso devo rifare tutto perché la Juve proprio questa notte ha deciso di mettere in venita la maglia ufficiale e quindi tutto quello che ho detto non conta più per la prima maglia, conta per la seconda, la terza e la quarta perché la Juve avrà quattro maglie ma ne parleremo dopo e quindi adesso vado a rifare tutto il pezzo sulla paglia principale, ve la vado a presentare. Ed eccola qui, in realtà è da tempo che si sa che sarebbe stata pressa poco così, con il logo della Jeep scontornato rispetto al classico, con il patacone, con l'ittichettona brutta 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 che non aveva senso, ed eccolo qua una cosa molto molto più elegante, anche con le strisce molto più strette rispetto alla versione dell'anno scorso. Torniamo quasi al principio, torniamo al passato, questa qua è una maglia della Juventus che proprio quando la vedi la riconosci ad occhio perché una maglia della Juve è fatta così. Con le righe bianche, con le righe nere. Mi piace molto il colletto con questa forma, anche se c'è un particolare che non mi fa impastire. Adesso la vediamo così, senza pace, quindi è molto molto elegante e sembra quasi perfetta. E adesso arriviamo al tasto dolente perché guardando la maglia della Juve con lo scudetto e con la Coppa Italia, davvero mi viene da chiedermi dove avrebbero potuto inserire anche il logo della Champions perché già così ecco il motivo per cui è ovviamente una battuta, una cosa che vuole farvi ridere, vuole sdrammatizzare questa cosa che io ancora mi sto portando dentro. Ma davvero dove l'avrebbero messa? Dove? Perché questo colletto che è molto bello purtroppo porta via molto spazio e quindi non c'è la posizione dello scudetto dove era di solito qui in mezzo alla maglia completamente e praticamente c'è la coccarda della Coppa Italia qua piazzata sul collo e devo dire che no, questa è una cosa che non mi piace, la maglia in sé è molto bella ma quelle due patch lì così no. Questo qua sarà il retro della maglia da gara, mi piace molto questo spazio nero in cui andare a inserire il nome numero in bianco. Un font rivoluzionato molto molto magro, molto magro come sono magre le strisce rispetto a quelle dell'anno scorso. Abbiamo un font sia per le lettere sia per numeri molto particolari, ovviamente qua faccio vedere Toselli17 perché è il mio numero da calcio che uso praticamente sempre e mi piacerebbe prendere una maglia del genere anche se sto cercando di collezionare tutte le maglie bianche e nere di Dybala ma ho paura di acquistarla adesso perché A potrebbe essere ceduto visto che è lo sponsor della presentazione delle maglie l'anno scorso erano Pogba, Morata ed Hernanes e b ho paura che possa prendere il numero 10 e vabbè ci non hanno soldi. Seconda maglia della Juventus, gialla e blu come ci abbiamo già visto in passata, l'abbiamo già vista molte volte perché il giallo e il blu sono i due colori primari della città di Torino dove la Juventus ha la sede. Devo dire che mi piace molto anche questa anche se la prima rimane davanti perché quest'anno la seconda della Juve mi piaceva molto, quella blu e questa qua magari mi piace già meno perché il giallo è un colore che non mi fa impazzire ma questa maglia ce l'avevamo già con il primo anno di Tevez alla Juventus infatti mi ricordo di avere questa maglia esattamente, cioè non questa ma la maglia della Juve di quell'anno con questi colori con Tevez anche se avevamo il colletto stile camicia e quello lì mi piaceva abbastanza devo dire e ovviamente vediamo che qui le rifiniture sono tutte in blu logo della Juve, stelle, sponsor Jeep, sponsor Adidas, le tre righe tecniche dell'Adidas di tutte le magliette la maglia completamente gialla e le rifiniture in blu giallo e blu comunque sono due colori che ci stanno molto bene insieme e questa maglia è molto bella anche se non prettamente ai livelli della prima per quanto mi riguarda qua possiamo vedere uno zoom adeguato sulle rifiniture del nuovo stemma che devo dire essere molto elegante soprattutto in una divisa Adidas non pensavo potesse starci così bene all'interno di una maglia sono sincero non pensavo potesse essere così bello la nota dolente invece se vogliamo ora è rappresentata dalla terza maglia della Juventus che non mi piace per niente veramente è una cosa che non la comprerai mai come non avrei mai comprato la terza di quest'anno quella muccata, quella zebrata che è veramente brutta per quanto mi riguarda quasi quanto la seconda del primo anno dello Scudetto di Conte quella rosa con la stella nera mamma mia che pataccata bruttissima che aveva fatto Nike questa maglia non mi piace è stato deciso di utilizzare questo verde militare ma sarà che a me come colore proprio non fa impazzire e è stata data la possibilità ai tifosi di creare la maglia devo anche essere sincero magari se non fosse di questo verde potrebbe essere molto molto più bella quindi questa è stata una maglia creata dai tifosi io stesso avevo provato a fare una tipologia, un graffito di maglia, una bozza di maglia avevo provato ad inserire anche il logo dei Braille stando per fare il somaro sarebbe stato molto bello avere una maglia da Juve con il logo dei Braille se quello l'avrei comprata assolutamente ma se devo dire la verità questa maglia no c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non mi piace al 100% sarà che questa bandona nera e bianca che avevamo appena abbandonato la banda della Jeep ritroviamo una nuova banda che in realtà oi con il logo della Juve la scritta Juventus sulla cosa nera è anche un pochino fine come è abbastanza carino anche avere le tre stelle su un impatto bianco il problema è che tutto il resto della maglia non c'entra assolutamente niente con quella riga, sembra quasi messa lì tanto per inserire qualcosa probabilmente senza quella riga avendo una maglia tutta di questa tonalità di verde scuro con i risvolti neri sulle maniche, sul colletto, sulle righe, sulle spalle e avendo forse addirittura anche gli sponsor Adidas, Jeep e Juventus in nero forse sarebbe stato già meglio se devo dire la verità per quanto mi riguarda come scelta cromatica ma così non mi dice tanto, non mi dice nulla e questa dovrebbe essere assolutamente già ufficiale perché comunque è stata presentata, è stato deciso che questa sarà la maglia che ha vinto il concorso per quanto riguarda i tifosi ma no, no, c'è qualcosa che non va la paragono quasi a quella che abbiamo avuto due anni fa che sembrava uno teletubbies e non avrei mai comprato neanche quella maglia ci sono delle maglie della Juve, wow, come seconde, terze che negli anni sono state veramente orripilanti, abberranti mefistofeliche addirittura qua c'è un piccolo zoom che vede il dettaglio di cui vi parlavo prima di questa abbandona con il logo della Juve che fa questo gioco cromatico sul bianco e il nero, sul verde però, ripeto, no, non spenderei mai dei soldi per comprare questa maglia la prima sì, la seconda è carina, la prima è bellissima la terza no, la terza no il problema è che quest'anno la Juventus compierà a novembre 120 anni fondata nel 1897, nel 2017 farà appunto 120 anni di storia e quindi per l'occasione si vocifera non so ancora se la notizia sia ufficiale o meno che ci possa essere una quarta maglia, molto bella e molto elegante di cui non abbiamo le immagini ma abbiamo un concept di una maglia bianca completamente con gli inserti in nero quindi la cosa che più mi piace in assoluto un po' come quella lì di Del Piero lì dietro che secondo me quella lì è una maglia bellissima il retro di quella maglia è stupenda bianca e nera che è la Juventus in sé quasi forse meglio di una delle prime maglie di quell'annata e in mezzo il tricolore che è magari una pataccata devo dire la verità ma che risalta molto l'idea di Juventus sulla maglia di quell'anno devo dire la verità sono abbastanza contento di questa maglia ma il retro è veramente stupendo e quindi questa quarta maglia che non ho idea di quando verrà usata rispetto alla prima, alla seconda, alla terza anche perché comunque il bianco è richiamato già fortemente nella divisa principale nella divisa prima nella prima maglia di quest'anno ma una maglia e mi duole dirlo in una giornata del genere dato che stasera giocheranno la finale di Champions League galactica nel senso richiamata dai merengues il puro bianco l'eleganza del bianco associata al nero devo dire che mi fa quasi impazzire come idea di avere qualcosa del genere poi non so se verrà utilizzata solamente in partite importanti se verrà solamente stampata ma mai utilizzata utilizzata solo nel giorno del 120esimo anniversario non lo so ma una maglia completamente bianca della Juve con le braghine bianche con i calzettoni bianchi con solamente le rifiniture Adidas che veramente Adidas fa delle rifiniture pazzesche le tre righe dell'Adidas sono una cosa bellissima da avere su una maglia tutte in nero con Adidas in nero con GP in nero qua addirittura vediamo il vecchio stemma della Juventus e potrebbe anche essere vero perché una maglia storica ci sta che non abbia lo stemma nuovo con le tre stelle in oro che comunque sono molto eleganti sul bianco e nero è probabilmente diventerebbe il primo acquisto che voglio fare nel momento esatto in cui questa maglia viene messa fuori fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di queste tre più una extra quindi quattro maglie della Juventus qui sotto nei commenti lasciate un pugno di pollice se questo video è piaciuto mi piace fare questi video in cui vi parlo in cui posso finalmente esprimere tante opinioni perché secondo me onestamente sono quelli che mi vengono meglio e forse anche quelli che mi divertono un po' di più quindi voglio fare qualcosa di simile in chiave calcio mercato fatemi sapere se avete qualche idea a suggerirmi sempre qui sotto nei commenti passate in descrizione tutti i link ai miei social network tutti i link ai canali di Braille seguitemi dappertutto e noi ci vediamo al prossimo video e non so come concluderlo quindi dirò una cosa molto stupida come termodinamica ciao 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 Grazie a tutti.